E mentre il mercato cripto è un po' quello che è e gli exchange ormai non ci danno più quell'affidabilità di una volta, cosa facciamo? Noi ci fermiamo e guardiamo? Assolutamente no. Ci andiamo ad esplorare un po' altri mercati, infatti ultimamente anche all'interno del gruppo Telegram stavamo parlando e stavamo provando alcune cose e tra cui anche una sala segnali, anzi due, sono anche gratuite quindi magari dateci un'occhiata. Adesso andiamo a parlare al dunque, cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a provare, andiamo a vedere una strategia di trading almeno. Andiamo a vedere un attimo come si utilizza questa strategia su Forex, specificamente su una coppia che vabbè poi dopo ne parliamo e vi do tutte le indicazioni, tutti gli indicatori che servono. Diciamo che va più sullo scalping, questa strategia ovviamente non è quella che uso io per operare, assolutamente no. Volevo soltanto condividerla con voi, eventualmente se la testate così fatemi sapere e poi magari in futuro fare una challenge, quindi partire con un tot capitale sfruttando solo questa strategia ed arrivare a un capitale un po' più alto. Chi me l'ha girata la utilizza per farci scalping, per fare operazioni molto rapide appunto e veramente veramente profittevole. Anche cercando sul web poi ho visto che comunque ha una bella percentuale, un bel win rate. Quindi che dire, ci spostiamo subito al pc e andiamo a vedere come funziona questa strategia. Questa parte la sto registrando dopo il video perché mi sono ricordato che c'era un'indicazione particolare, ma ve la dirò poi alla fine del video. Quindi mi raccomando seguitelo a tutti perché è importante anche questa cosa. Passiamo alla parte pratica, come dicevo, la parte che mi piace di più. Io ho tutte le impostazioni scritte qui, quindi come settare la strategia, poi ovviamente dopodiché qualcosina l'ho imparata. Prima cosa su quale coppia operare, AUD, USD, quindi dollaro australiano e dollaro statunitense. Questa è la coppia consigliata. Ovviamente andiamo a vedere adesso il time frame, andiamo a vedere anche più o meno gli orari di operabilità perché ci sono alcuni orari dove va meglio e dove non va meglio. Seconda cosa il time frame. Time frame 5 minuti, quindi consigliata sui 5 minuti questa strategia. Adesso passiamo alla parte degli indicatori, quindi andiamo a settare i nostri indicatori. Il primo che ci serve, interessante, è questo qua. 3 smoothed moving average. Comunque sia, vabbè, vi lascio magari poi il testo. Comunque nel gruppo Telegram vi lascio tutte le indicazioni se vi fa piacere. Lo andiamo subito a inserire. Eccolo qua. Una volta inserito, qui già si vede. Una cosa che vi consiglio di fare, ovviamente, è aumentare un pochino lo spessore e il colore magari giusto per distinguerli meglio perché non è che si vedono proprio benissimo. Altra cosa importantissima, andare su input e cambiare i periodi. Andiamo ad inserire 21 sul primo, 50 sul secondo e 200 sul terzo. Una volta fatto questo, lasciamo sorgente, lasciamo su chiusura, andiamo su stile e deselezioniamo etichetta sull'asse verticale. Una volta impostato questo, ok, e si parte con il primo indicatore. Ce ne mancano altri due. Secondo indicatore che ci serve è l'RSI. E questo lo andiamo ad inserire qui, ma dobbiamo andare anche qui a modificare qualcosina. Una volta inserito, andiamo nelle impostazioni, andiamo nello stile e disattiviamo questi tre. E dovrebbe essere così, dopodiché, ok. Ultimo indicatore che ci serve è l'Engulfing Candle Indicator. Questo qui io me lo metto anche nei preferiti, se no poi me lo ridimentico. Questo indicatore ci va ad indicare appunto gli engulfing, ovvero ci va ad indicare quando una candela ha inglobato la candela precedente. Una volta settati tutti gli indicatori, possiamo adesso iniziare ad operare. Per poter entrare al mercato ci interessano tre cose, quindi si devono verificare queste tre cose. Ok, la prima cosa da vedere sono le candele. Se si trovano sotto appunto le linee dell'indicatore, allora possiamo aprire operazioni in short. Se si trovano al di sopra, possiamo aprire operazioni in long. Questa è una delle tre, dobbiamo tener conto di tre cose. Seconda cosa, per aprire in long la linea dell'RSI deve essere sopra i 50. Mentre per vedere se le posizioni short possono essere aperte, deve essere sotto i 50. Quindi, seconda cosa da tener conto. Terza cosa da tener conto, aspettare il segnale dell'engulfing che va nel senso in cui noi vogliamo aprire la posizione. Quindi, in questo caso, facciamo l'esempio vero e proprio. Mettiamo caso che qui vogliamo aprire in short. Perché? Perché le candele sono sotto alle linee dell'indicatore. Quindi, si troviamo qui sotto. Seconda cosa verificata è che l'RSI si trova sotto i 50. Terza cosa, dobbiamo aspettare il segnale completo, quindi che venga chiusa la candela, con il segnale dell'engulfing che ci dava. Ad esempio, in questo caso, qui ci arriva il segnale proprio su questa candela qua. Siamo al di sotto delle linee, tutto ok. Arriva il segnale, apriamo short. Quindi, ecco qua, questa posizione sarebbe stata presa. Adesso andiamo a vedere anche come impostare stop loss e take profit. Quindi, come impostare stop loss e take profit? Allora, una volta che il segnale ci è arrivato, aspettiamo appunto la candela che si chiude con il segnale. Quindi, diciamo che qua potevamo aprire in short. Come impostiamo appunto queste due cose? Niente di più facile. Andiamo a misurare questa candela qua. Vediamo un attimo cosa ci dice. 0,11 penso. Sì, vabbè, poco più, ne ho lasciato un pochino fuori. Quindi, 0,11 raddoppiamo, quindi 0,22 sarà il nostro take profit e la metà appunto sarà. Quindi, rapporto 1 a 2 sarà il nostro stop loss, quindi a 11. Adesso ho fatto questo come esempio, però effettivamente sarebbe stata presa la posizione veramente, veramente non male e facile come strategia. Io direi a questo punto di trovarne anche una in long, così andiamo a vedere l'esempio. Sia è short e sia è long. Esempio in long è ancora più semplice. Vediamo che le candele si trovano sopra le linee dell'indicatore. Cosa facciamo? Andiamo a vedere sotto. L'RSI si trova appunto sopra i 50. Anzi, secondo me quando va a toccare i 70 forse è ancora meglio. Ci arriva, l'indicatore ci dà appunto, ci dà la conferma che c'è un engulfing appunto, perché questo è un indicatore che ci va indicare l'engulfing. Aspettiamo che si chiude questa candela e possiamo aprire in long. Quindi diciamo che avremmo aperto la posizione qui, su questa candela qui. Come andiamo a impostare stop loss e take profit? Ovviamente sto facendo lo stesso esempio di prima. Ci andiamo a misurare questa candela appunto dove c'è stato il nostro segnale. E' dello 0,9 quindi andiamo a raddoppiare a uno 0,18 andremo a mettere il take profit e a 0,9 appunto andiamo a mettere lo stop loss. Che un attimo, eccolo qui. Ecco qua impostato il nostro. Ovviamente il rapporto 1 a 2 come dicevamo prima, forse molto breve. Magari ecco in questo caso si poteva fare di più. Anche lo stop loss è molto stretto, però ovviamente stiamo parlando di operazioni molto veloci. Stiamo operando sui 5 minuti. Altra cosa, altra cosa che c'è da dire. Non so se ve l'ho detta, ma questa è importantissima. L'orario di operatività, nell'intro ve l'ho detto, ma non vi ho detto appunto l'orario. E' consigliato operare dalle 9 alle 14 solitamente. La vorrete stare comunque molto più a lungo, magari anche in orari diversi per capire un po' come va. In questo caso noi potevamo aprire uno short. Guardate qua quanti segnali. Ecco qua, ad esempio, questo è adesso in tempo reale. Potevamo aprire un bello short qua. Ecco qua, questa è la candela. E noi qui saremmo entrati. Ovviamente così, per fare un altro esempio. Adesso non ho misurato la candela, però un rapporto 1 a 2 per dire. Ed era un'altra posizione presa. Però, ripeto, essendo scalping, essendo così, c'è da valutare queste cose. Sono strategie che comunque statisticamente, essendo backtestate, possono portare, sì, profitti. Ma ovviamente, ragazzi, non è nulla di sicuro. Ovviamente queste strategie non tengono assolutamente conto di notizie di mercato, di cose del genere. Quindi, mi raccomando, sono soltanto basate su statistiche, appunto. Non c'è nulla di così studiato, non c'è un'analisi fondamentale, nient'altro. Quindi, mi raccomando, seppure volete usarle, magari testatele con un conto demo, eccetera. Ovviamente, se volete evitare, evitate assolutamente. Non c'è nulla da nascondere. Io le vado semplicemente a testare, a condividere con voi. Eventualmente farci delle challenge sopra. Giusto per capire effettivamente se funzionano o no. Anzi, magari ci faccio proprio una challenge su questo. E nient'altro da dire, ragazzi. Se comunque vi sembra interessante, lasciate un mi piace, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.